Gregorio Mangano, presidente di AISA, quando non è solo una questione economica ma è una questione di cultura, come quindi migliorare il discorso della formazione? Sì, esattamente come dici, il più delle volte non è una questione di costi ma è una questione di cultura. La cultura si affronta creandola. La nostra associazione ad esempio crea corsi di formazione specifici, di recente lavora in parecchi tavoli tecnici e ad esempio di recente la categoria servizi e sanificazione in pianti arraulici è stata recepita dall'iprocuramento della pubblica amministrazione il 22 maggio del 2022 e l'associazione è in grado di fornire certificati percorsi formativi specifici che non sono solo destinati ai professionisti del settore ma anche a chiunque debba affidare lavori appalti che riguardino la sanificazione degli impianti dell'aria. Le immagini che hai fatto vedere erano soltanto degli esempi ma esempi reali di situazioni da migliorare. Distribuite però in tutta Italia? Distribuite in tutta Italia, direi anche distribuite in tutta Europa e anche oltreoceano ma il problema è che i canali dell'aria non si vedono e quello che c'è all'interno non si vede quindi spesso noi siamo abituati che ciò che non si vede non è un problema ma purtroppo non è così. La pandemia di recente ci ha insegnato che questo non è vero, ciò che non si vede ed è presente nell'aria può essere un pericolo serio per la salute degli occupanti edifici.